Sì, ragazzi, vi avevo promesso il video della domenica ed eccolo qui, solo per voi. Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special, sto registrando di domenica mattina, i miei occhi lo dimostrano, solo per questo un bel follo ci ho messo come sopporto. E un parere qua sotto nei commenti sull'argomento, attenzione, che è molto, 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 molto importante. Vi ricordo anche di passare dei link che trovate in descrizione, trovate ad esempio i miei social, ma anche il link per scaricare OneFootball, l'applicazione che vi viene aggiornatissimi su tutto il mondo del calcio, utile anche per le conferenze stampa degli allenatori, che sono utili per i fan d'allenatori, per le ultime notizie, per le probabili formazioni, insomma, su tutto. Quindi, mi raccomando, link è in descrizione, non scaricate, grazie, se vi prende proprio spazio, sarete sempre aggiornati. Detto ciò, vi ricordo anche che potremmo stasera, se riesco, fare una live, non so se qui su YouTube o sulla piattaforma viola, che trovate qua sotto, sulla piattaforma viola, e seguirmi su Instagram. Tra l'altro sarà uscito già un meme, quando vedrete forse questo video, quindi mi raccomando, andatelo a vedere. Detto ciò, parliamo di un argomento interessante, ovvero tasse e fantacalcio. Perché ho portato questo video? Era da un po' di tempo che volevo parlarvi della questione premi per quanto riguarda il fantacalcio e del perché non ho mai organizzato in questi anni un fantacalcio con una grossa quota di partecipazione e dove il premio è molto importante. Però questo video non è in collaborazione con un altro, diciamo, canale YouTube, ma vi voglio mostrare o comunque qualcosa del genere. Perché c'è un canale molto molto interessante, che è quello di Angelo Greco, che è un avvocato che porta, diciamo, contenuti sul mondo, diciamo, del diritto italiano, però alla portata di tutti, ok? Con veramente delle spiegazioni molto semplici. Tra l'altro devo recuperarmi un bel po' di video, perché l'ho iniziato a seguire prima cosa di quest'estate, nello scorso lockdown, ecco, e ho un po' di video arretrati. Ma c'è questo video qui, il fantacalcio va tassato, che, appunto, parla del mondo del fantacalcio legato, ovviamente, alla legge italiana, soprattutto dal punto di vista economico, no? Dal punto di vista del fisco. Ed è chiaro che, ragazzi, è un argomento che mi riguarda, nel senso che il mio canale è sul fantacalcio, dovevo per forza farci un video. Però, attenzione, perché non andrò a dirvi quello che comunque comunica lui nel suo video, anzi, perché non saprei spiegarvelo meglio di come ha fatto lui, quindi andatevi a vedere assolutamente il suo video. Come detto, non è un video in collaborazione, gli scriverò probabilmente più tardi, ok? Vi comunicherò che comunque, tra virgolette, pubblicizzate il suo video, ma perché spiega benissimo tutto il mondo, diciamo, economico attorno al fantacalcio, dal punto di vista, appunto, legislativo. Quindi, mi raccomando, andate a recuperare il suo video. Nella sua, diciamo, in questo, comunque, clip va a spiegare che, dal punto di vista legislativo, non c'è nessun problema quando noi organizziamo un fantacalcio, ma come anche, non so, una tombola, un mercante in fiera, in famiglia o tra amici, e ci sono, magari, dei premi in palio. Non è quello un problema. Quindi, se vi giocate, non so, una pizza, tra il fantacalcio con gli amici, o comunque, dei piccoli premi, non c'è alcuna dichiarazione che vi ha fatta, appunto, all'agenzia delle entrate al fisco, ok? Quindi, da quel punto di vista, possiamo stare sicuri. Cioè, se potete stare sicuri, ok? Non ci sono tasse da pagare su queste piccole entrate, su questi piccoli premi. Ma è diverso per situazioni legate a grandi fantacalcio, cioè a lega, ad esempio, molto numerose, o a lega, non eccessivamente numerose, ma con importi molto, molto grandi. In quel caso, anche, vanno prese alcune considerazioni per quanto riguarda, appunto, il premio, che va decisamente tassato. E lui spiega anche come, quindi andate a seguire. Poi, per quanto riguarda un altro aspetto, che è legato a chi organizza il fantacalcio. Cioè, nel mio caso, ad esempio, che se io dovessi organizzare un fantacalcio con voi iscritti, o comunque, e faccio, ad esempio, una quota di iscrizione molto alta, dei premi in denaro molto alti, capite bene che anche in quel caso dovrei andare a tassare quel premio. Se l'organizzo io, quindi voi partecipanti, magari uno di voi partecipanti, vince un premio, quel premio sarà già decorpato, sarà minore, appunto, a causa della tassa che andrò a pagare io, ok? Mentre, se l'organizzatore siete voi, dovrete comunque essere voi a, diciamo, a pagare quella somma, ecco, in relazione alle tasse. Quindi, soprattutto, parliamo ovviamente di cifre molto alte, quindi di qualche migliaio di euro, ragazzi, ok? Parliamo di cifre importanti, perché ci sono anche questo tipo di fantacalcio. Io, ve l'ho sempre detto, amo di più il fantacalcio, quello fatto con gli amici, per divertimento, addirittura noi, con i youtubers, lo facciamo per la gloria, no? Per dire, ah, sono arrivato prima nel fantacalcio degli youtubers, per dire, no? Questo è il tipo di fantacalcio che io amo di più, proprio perché sta tutto nel divertimento all'asta, nello sfotto, settimana dopo settimana, non tanto sui premi, ok? Che si vanno a vincere a fine anno. Poi, ovviamente, anno dopo anno, qualche premio, è chiaro che l'ho vinto, però non è quello il mio pensiero, non è quella la mia ossessione, ok? La vittoria, e anzi, eh sì, è bella, ma è tutto il percorso che ti porta alla vittoria, che ti fa divertire, ma anche una sconfitta non è assolutamente un problema. Tornando al discorso economico, anche per questo, i miei fantacalcio non sono organizzati in questa maniera, cioè sono gratuiti, ok? Senza quota di, diciamo, di partecipazione, ma ci sono comunque dei premi che sono di solito permessi dalla sponsorizzazione. Quando io, quando all'inizio del video, ad esempio, in questo caso con Google Football, ma in genere trovate una sponsorizzazione, è perché questo progetto è sostenuto da queste sponsorizzazioni. Quindi, se vedete un po' di pubblicità, dovete pensare semplicemente che questo, diciamo, progetto è mantenuto anche da tutto ciò. Quindi, quando scaricate un'applicazione, quando provate ad utilizzare un'applicazione che vi consiglio, sapete che state appunto sostenendo questo progetto, ok? E, dal punto di vista dei premi nelle mie leghe pubbliche che ho comunque fatto in questi anni, è chiaro che ho voluto non mettere dei premi in denaro, ma dei, non so, dei gacci, dei palloni di serie A, roba acquistata da parte mia o da parte dello, diciamo, dello staff della sponsorizzazione, in alcuni casi della piattaforma, abbiamo utilizzato diverse piattaforme in questi anni. Quest'anno utilizziamo appunto Fanta Master che, grazie appunto alla, diciamo, la sponsorizzazione mi ha permesso di poi mettere in palio dei premi, ok? Quindi, mi raccomando, vi consiglio di stare attenti se organizzate questo tipo di Fanta Calcio, quindi con leghe molto, molto numerose, con premi molto, molto alti, perché è l'unico effettivamente caso in cui, dal punto di vista legislativo, bisogna comunque stare attenti. se fate un Fanta Calcio tra amici con piccole somme dove si vanno a vincere una pizza o la gloria, addirittura in alcuni casi state ovviamente sereni e divertitevi, ok? Senza questo tipo di pensiero. Ovviamente vi rimando, come detto, al video di Angelo Greco per quanto riguarda appunto maggiori dettagli e soprattutto spiegati con la giusta, diciamo, con le giuste precisazioni, perché appunto è veramente anche bravo non solo come avvocato ma come youtuber quindi mi raccomando io vi consiglio di seguirlo come detto non è un collaborazione non l'ho ancora contattato io comunicherò poi dopo ecco che mi è piaciuto molto il suo video ok? Quindi mi raccomando detto ciò seguitemi sui social link in descrizione mi raccomando seguitemi soprattutto su Instagram e supportate questo video anche con un bel pollicione in su e condividetelo anche ad amici o ad organizzatori del fantacalcio chiunque ragazzi va bene? allarghiamo questa nostra bella community di fantallenatori detto ciò vi auguro una buona domenica e ci vediamo o più tardi con una live altrimenti direttamente domani va bene? un abbraccio da Carmi ciao